Dall'inciucio delle ultime elezioni provinciali che portò i renziani del PD e dallearsi con Fratelli d'Italia e Forza Italia alla riconciliazione che ha però il sapore solo di una tregua. Quella siglata ieri a Roma tra Bruno Censore e Francesco Denisi, i leader del Partito Democratico nel Vibonese si sarebbero stretti nuovamente la mano a distanza di oltre un anno ed entrambi sarebbero già a lavoro per plasmare il progetto di Antonio Lo Schiavo, il giovane notaio sul quale il centrosinistra punterà le amministrative della prossima primavera. Dal momento che la politica è evoluzione, con ogni probabilità questa volta fare coppia con Fratelli d'Italia potrebbe essere quello stesso Pietro Giamborino che al fianco di Censore dell'allora aspirante governatore Mario Oliverio gridava nello scorso mese di settembre allo scandalo dopo l'accordo d'Uni che avrebbe consentito ai renziani di conquistare Palazzo Exenel grazie all'alleanza trasversale proprio con gli azzurri e i seguaci di Giorgio Meloni. Meglio non solleticare più di tanto la memoria perché altrimenti la coerenza assume in politica a destra come a sinistra le medesime sembianze della città del sole di Tommaso Campanella. E allora mentre Giamborino si appresta a capeggiare una coalizione della quale entrerebbero a far parte anche alcuni assessori uscenti messi alla porta da Elio Costa nel PD pare ritornare il sereno. Garante della tregua tra Denisi e Censore dopo una guerra fratricida partita con le primarie per le politiche del 2012 sarebbe stato niente meno che Ernesto Magorno nella sua recente visita a Filadelfia. L'ex presidente della provincia legato per altri da rapporti personali allo schiavo sarebbe dunque già al lavoro per costruire una lista di area renziana. Per lui la ricompensa potrebbe essere immediata già in occasione del prossimo congresso provinciale che sancirà la fine del breve regno di Michelangelo Mirabello eletto consigliere regionale guardacaso proprio a spese di Francesco Denisi.